Sindaco, il Teatro Eschilo di Gela con il suo cartellone continua a crescere, ad offrire certamente una serie di spettacoli di grande qualità. Sì, ma non solo a Gela, ma devo dire su tutto il territorio circondario, perché ci sono persone che ci vengono a fare visita pure dai paesi vicini, perché devo dire che a Gela si riesce a fare teatro, teatro di qualità, come è giusto che ci sia nelle città importanti, nelle città che hanno un occhio particolare per questa forma d'arte, che devo dire bisogna avvicinarsi per potersene appassionare. L'arte e la cultura sono molto importanti per una comunità che vuole crescere, a tal punto che sarebbero necessari altri posti, altre poltrone all'interno del Teatro Eschilo, perché talvolta ai noi non bastano. Sì, il Teatro cresce ogni anno, è un teatro che si fa sempre più importante in una città, rappresenta veramente un elemento centrale di crescita culturale dei propri cittadini. Noi riteniamo che il Teatro Eschilo si sta avviando in questa direzione e ogni anno lo dimostra sempre più, sino al punto che mancano dei posti. Il Teatro si riempie sino al punto da rendere necessario ulteriore ampliamento. Ampliamento fisico della struttura architettonica non è possibile, però è possibile incrementare il numero dei posti, ma su questo ci stiamo lavorando. Dipende ovviamente dal bilancio, dai limiti e dalle esigenze complessive della città, però è un'esigenza di cui siamo assolutamente consapevoli e alla prima occasione certamente lo faremo.